Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. Per voi sarà passato solo un giorno, ma per me è passato tanto tempo dall'ultima parte Pokémon, ok, dall'ultima parte che ho registrato. Diamo un'occhietta alla squadra, come vedete sono saliti in un po' di livelli perché nel frattempo avevo fatto un po' di live index facendo salire di livello alcuni Pokémon per le evoluzioni. Ora io non posso farvi vedere chi nello specifico perché non posso entrare in questo centro Pokémon che come sapete è bugato, bugatissimo, ho provato a rientrarci anche con un altro salvataggio e fa sempre lo stesso bug. Quindi in questo centro Pokémon non posso entrare, siamo sempre su Tangelo Island o Tangelo Island, che dir si voglia, e ho rifatto esattamente le stesse cose che ho fatto nella scorsa parte fino ad arrivare qui a quest'isola che ho completato nella parte sottostante. Noi stavamo per andare da questa parte ora e direi di andarci senza ulteriori indugini. Lui ci diceva appunto che a riscapito del fatto che questo sia un posto estremamente tranquillo, certe volte arrivano delle tempeste davvero forti. Ok, quindi noi qui abbiamo fatto già tutto, qui c'è il Pokémon Market, ma non ci interessa. Ho pescato anche un Tentacool su quest'isola con l'amo vecchio, si può fare, sì. E appena potremo entrare in un centro Pokémon vi farò vedere anche a che punto è il Divindex. Andiamo a battere questo allenatore. Ehi, lasciaci in pace. Stanno forse nascondendo qualcosa questi allenatori, questi domatori. Ok, Beedrill non è l'avversario adatto per il mio Bulbasaur, assolutamente no. Cambiamo Pokémon. Anche se forse no, potrebbe avere un attacco tipo con le Ottero e distruggerci. Contro Beedrill manderemo Pikachu. Dovrebbe essere anche Volante Beedrill, se non ricordo male, no? O forse è con le Ottero e Veleno. Oddio, quanto mi ha fatto male. Usiamo Electro Ball, dovremmo essere veloci. Ok, infatti non è Volante, non gli facciamo troppo male. Niente, abbiamo già perso il nostro Pikachu. Devo stare attento perché su quest'isola non ho il centro Pokémon appunto. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace, se avete gradito la serie fin qui. E se volete che questa serie continui, fatemi sapere anche cosa ne pensate nei commenti. Intanto Bulbasaur sarà a livello 45. E niente, non abbiamo più il nostro Pikachu, quindi continuiamo. Questa è la nostra preda. Ci dice questo domatore Jim. Secondo voi, a chi si stanno riferendo? A parte che l'avrete visto nel titolo. L'avrò messo nel titolo, molto molto probabilmente. Comunque mi sarebbe servito Squirtle. Ah, Pikachu volevo dire. A questo punto manderò Squirtle. Perché Bulbasaur contro Spearaw non è proprio il massimo. Mentre Squirtle può dire la sua con... ...Aquatail. Infatti, e poi con Morso. Dovrebbe riuscire a buttarlo giù. Perfetto. Ho anche riensegnato le mosse che avevamo insegnato nello scorso episodio. Tramite il... ...l'insegna mosse. Questo è il nostro Lapras. Ok? Lapras. Ed ecco Intmonchan. Allora, cambiamo Pokémon e mandiamo a di nuovo Pidgeot. Allora. Uh, Ice Punch. Questo mi farà male. Malissimo. Usiamo Wing Attack. Dovrebbe bastare. Non basta. Ok. Ci ha graziato con Fire Punch. Avrebbe potuto ucciderci. Con un altro Ice Punch. Ma come vi ho già detto in diverse parti, la difficoltà non è il focus di questa ROM. O meglio di questo videogioco. E qui abbiamo un allenatore particolare invece. Qualcuno di voi se lo ricorda dall'anime? Andiamo. È Tracy. Lascia quel povero Lapras da solo. Ma noi infatti siamo qui per salvarlo. Tracy Watcher sarebbe sorvegliante. Che manda in campo Venonat. Cambiamo Pokémon noi e mandiamo in campo Charizard. È un po' overkill, eh. Non credete che sia un po' overkill Venonat contro Charizard? Abbiamo fatto l'usazione, poverino. A Charizard ho insegnato Dragon Breath tramite l'insegna mosse. Il ricorda mosse. Mi sono ricordato come viene chiamato in italiano. Il ricorda mosse. E contro Merlin invece manderemo finalmente Bulbasaur. Che Merlin se non sbaglio ha preso anche il tipo Folletto, giusto? Acqua Folletto dovrebbe essere. Sì, il bomb. Eh, questa la sente. Mentre lui con Botaragun, giustamente, non può fare nulla. E iniziamo ad incontrare anche i primi Pokémon di Yoto. Aspetta, ma non volevi fargli del male, vero? Noi non vogliamo fargli del male a Charizard. Ah, a Lapras. Scusami, pensavo che volessi fare del male a Lapras. Quindi non ti ostacolerò. Vai per la tua strada. Ecco fatto, qui abbiamo il surf. E qui, Lapras. Lapras sembra fidarsi di te. Vuoi prenderlo con te? Ovviamente sì. E abbiamo ottenuto Lapras. No, gli diamo un soprannome. Ecco fatto. Ed ora usciamo da quest'isola malaugurata. Da quest'isola sfortunata per colpa di quel bug. Non entriamo in questo centro Pokémon. Eccoci qui. E andiamo a Mikan Island. Eccoci. Allora, se non ho sbaglio, qui c'è una vacca invisibile. Esattamente. Ed ora esploriamo un po' Mikan Island. Salve, signor Pigna Mosche. Ah, stai per sfidare il gruppo Orange? Buona fortuna. Comunque penso che non ce la farai. Ok. Allora, vediamo un po' se c'è un centro Pokémon qui in giro. Qui c'è una simpatica vecchietta. Ma questo è sempre stato un posto molto tranquillo. Se non fosse per la palestra non ci verrebbe nessuno. Eccola qui la palestra. Mikan Island. Sì, sì, si chiama la maestra dei Pokémon d'acqua. Qui c'è uno strumento. Nope. Continuiamo ad esplorare l'isola. Eccolo il centro Pokémon. Io per sicurezza però qui salverei la partita. Ecco fatto. E poi entriamo. E vediamo se sarà buggato anche questo centro Pokémon. Ora avrò il dubbio per ogni centro Pokémon. Il fatto che possa essere buggato. Salve. Questa isola non è così occupata come Tangelo. Come l'isola di Tangelo. Si è stato al parco dell'isola di Tangelo. Sì, nello scorso episodio. Ed ora andiamo a prenderci il nostro Lapras. Livello 40. Acqua Iaccio. Lascieremo giù Mac. Che non contiene alcuno strumento. E diamo un'occhiata anche al nostro Lapras. Eccolo qui. La sua abilità è... Vabbè la sua abilità. Ah, qua, ok. Shell Armor. È protetto contro i colpi critici. Vedai, non è male. Non ha fatto male. Allora, come natura... Ah, quella che gli aumenta la difesa. Gli diminuisce l'attacco. Sarà un lapro speciale, allora. Lo faremo speciale, semplicemente. Come attacchi a Brina. Ok, è una finisher questa, praticamente. Se il bersaglio ha meno di metà HP, questo attacco toglie il doppio. Quindi è una finisher, praticamente. Poi di Slam lo conosciamo. Ice Beam, potentissimo. E Water Gun. Che Water Gun magari potremmo anche toglierlo, dato che ha Brine. Comunque ottima giunta la nostra squadra. Noi continuiamo ad avere questa squadra. Qui, anche se non ricordo male, Pidgeot a questo punto non c'era più Ash, vero? Comunque vi faccio vedere appunto che il mio Live Index prosegue in questo modo. Ho fatto evolvere i secondi stadi degli starter. Ho messo quello che devo mettere, ho catturato un Sand Slash. Dovrei fare evolvere questi coin a Pikachu, ma lo farò un'altra volta. Abbiamo il nostro Pidgeot. Qui proseguiamo con Clefairy. Clefable, o meglio. Qua mi serve una pietra lunare per fare evolvere Jigglypuff. Poi dovrei fare evolvere questo Venonat. Ho un Persian ora. Primeape. Da questa parte, chi è che ho preso? Forse Polivrat, che non avete ancora visto. Eccolo qui. E Tentacool, appena catturato alla Tangelo Island. Poi vediamo un po' Mack. Ne ho presi un po', eh. Ed infine arriviamo qui, dove abbiamo Onix, catturato prima della Lega Pokémon. Goldeen, Orsi, questi forse l'avete già visti. Anche qui dovreste aver già visto tutto. Ho iniziato a far evolvere un po' di Eevee, a far schiudere un po' di uova. Abbiamo un Eevee normale. Abbiamo una Jolteon. E il nostro Mewtwo. Bello lui qui, con il nostro Mew. E i Pokémon Baby sono questi. Pichu, Cleffa, Iglypuff e Malby. Per ora questo è tutto quello che possiamo fare. Meglio, potremmo fare anche di più, ma è tutto quello che possiamo fare in maniera ragionevole senza perdere troppo tempo. Continuiamo ad esplorare quest'isola. Abbiamo un Gru Pescatore. Ho pescato per anni, ma non sono ancora riuscito a trovare il Sidra perfetto, ci dice. Lui sta cercando un Sidra. Ok, qui abbiamo un Revitalizzante, che ci prendiamo volentieri. E qui sotto... Se hai intenzione di combattere contro Sissi, che è il capopalestra in quest'isola, o meglio la capopalestra, ci servirà questo. E ci dà Thunder. MT 25 tuono, potentissima. Però io preferisco Fulmine, devo dirvi la verità. Go to the tree, vai all'albero. E questo ci dà un consiglio, infatti vai all'albero, un indizio. Per prendere appunto lo strumento nascosto. Allora, qui entriamo in questa casa. Sembra una casa molto particolare, effettivamente. Mia sorella gestisce la palestra qui. Non aspettarti di essere in grado di batterla. E questo infatti è il fratello della capopalestra, che ci sfida. Se manda al campo il suo Dratini. Ok, se Bulbosauro riesce a batterlo, iniziamo con Toxic. Vabbè, finché ci usa Aquatail. Ok. Ah, attenzione, Dratini si toglie, è Toxic. Come se niente fosse. Ed evita anche il nostro parasistema. Ok, questo non l'ha evitato, perlomeno. E ha provato a farci un Dragon Breath lui, eh. Poi andiamo con Double Edge. Facciamone un po' di male questo Dratini. Anche Ira di Drago ha missato. Fortunatamente. Ok, un altro Double Edge. E, anzi, usiamo lì direttamente una Seed Bomb. Dovrebbe bastare. Slam non ci paralizza, fortunatamente. E battiamo Dratini. Dewgong. Sì, cambiamo Pokémon. E mandiamo Pikachu. Dewgong potrebbe avere attacchi di tipo ghiaccio, per quello ho tolto Bulbasaur. E contro Dewgong usiamo Spark. Aquajet, cacchio. Ah, colpo critico, tra l'altro. Però Shintilla ha fatto il suo lavoro. Era il primo Dewgong che vedevamo in questo gameplay. Poliwrath, lasciamo Pikachu. E usiamo di nuovo Spark. Forte Pikachu, eh? E fortunatamente abbiamo guardato la natura all'inizio e abbiamo costruito un Pikachu fisico. Credo che tu sia davvero forte. Ma forse avrai una possibilità. Usa questo per aiutarti. E ci dà la TM42 facciata. Dovete sapere che, se voi venite a parlare a questo ragazzo dopo aver battuto la palestra, non vi sfiderà, ma vi darà direttamente la MT42. Bene. Curiamoci Pokémon. Ecco fatto. E direi a questo punto, dato che abbiamo ancora un po' di tempo, di portarci qui davanti alla palestra e di salutarci qui dandovi l'appuntamento per il prossimo episodio dove andremo a battere la palestra di Sissi qui su Mikan Island. Grazie per aver seguito questo video. Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e di condividere il video a coloro a cui potrebbe piacere Pokémon Firehash. Da Glaciosphere è tutto. Al prossimo video. Grazie a tutti.